Gali, in un punto dove si dovrebbe cantare, ha lanciato uno stilema politico. Questa foto mi colpisce perché vedo tutti e due le fazioni che si uniscono. Altrettanto pacifista a ditare una sola delle fazioni, dicendo guarda che stai facendo un genocidio piuttosto che far vedere invece dei messaggi di unione. A me è sembrato un messaggio giusto, ma divisivo quello di Gali. Toscani era andato a cercare tutte quelle situazioni in cui i palestinesi e gli israeliani convivevano pacificamente. Fu un messaggio molto semplice ma potente sulla pace. Cioè le persone normali vogliono convivere in pace. Una delle prerogative della comunicazione di Toscani era di non prendere mai posizione e di lasciarla prendere a chi guardava.